La giornata ricca di eventi, spettacoli, musica, c'è veramente molte cose da fare e da vedere. Iniziamo alle dieci e mezza in sala teatro con lo spettacolo del Piccolo Principe e l'Aviature, con la drammaturgia di Samuele Boncompagni e la regia all'esordio di Amanda Sandrelli. Sì, sono Samuele Boncompagni, l'attore di questo spettacolo e anche l'autore della drammaturgia, che chiaramente è basata sull'immortale Piccolo Principe di Saint-Exupery, però diciamo il lavoro per il trattamento teatrale è stato abbastanza importante, sia perché inevitabilmente il libro andava tagliato in qualche modo. Sappiamo benissimo per i nostri spettatori che è sempre un dramma quando si accorgono di cosa abbiamo dovuto tagliare, ma il dramma è stato iniziale anche nostro, forse si chiama drammaturgia proprio per questo, perché c'è un dramma iniziale per cui... No, contiamo invece proprio sul fatto che è, penso sia il secondo libro più tradotto nel mondo e quindi, come dire, la storia è conosciuta molto bene, quindi noi ci siamo permessi di toglierne delle parti, alcuni, come dire, incontri che fa il nostro Piccolo Principe non ci sono nello spettacolo. Unico sollievo La dolcezza del tramonto Sul tuo piccolo pianeta Ogni volta che volete Se la pecora mangia il fiore è come se tutte le stelle si spegnessero. Non è importante questo? Invece alle 11.30 nella sala letteratura c'è l'incontro della dottoressa Luigia Melillo, che è responsabile dell'ufficio restauro e delle relazioni internazionali del Museo Mann, con Marion Bertram, direttore del Museo della Preistoria e della Protostoria di Berlino, che parleranno e dialogheranno sul tesoro di Priamo e sulla storia di Schilmann a Napoli, che ha avuto un rapporto un po' particolare con la nostra città. È stato molto interessante, hanno partecipato moltissimi visitatori e questo ci fa molto piacere. La maggior parte delle persone non sapeva che Schilmann è morto il giorno di Santo Stefano del 1890, proprio a Napoli, in pratica a Piazza Carità, quindi a poche centinaia di metri dal museo. Ed è questo il filo rosso che ha collegato l'intervento di Marion Bertram e di Luigi Necco nel nostro museo per questo evento. Intellettuali, paesi stranieri, autorità politiche e culturali hanno premuto fin tanto che quella notizia data da noi per primi nel 1992 non è diventata una specie di bilancio. Aprite il tesoro alla visita a Istria. La Coppoculture si occupa dei servizi museali, non solo della biglietteria, ma anche dell'accoglienza e dell'assistenza al pubblico che partecipa a questi eventi. E soprattutto in questi giorni ci occupiamo anche della promozione degli eventi stessi ai visitatori che ci sono al museo. Non soltanto quindi proprio qui direttamente al museo, ma anche grazie ai social e per la nostra città, quindi proprio nella nostra città. Quindi vi occupate anche della comunicazione? Della comunicazione, sì, a stretto contatto appunto anche con tutto lo staff del museo e con la direzione. All'ora alle ore 16 nella sala del Toro Farnese ci sarà il giornalista del mattino, Federico Bacalèbre, che intervisterà Sergio Camariere, il noto artista italiano che è famoso soprattutto all'estero, anche con le colonne sonore che ha prodotto. Sono un set di eserro, anche prima di Sanremo, anche prima di... E' una cosa che non poteva non accorgersi, che il fatto c'è, che il fatto c'è, che siamo andati avanti e quindi si è affermato con una delle presenze importanti nella nizia romana. Mi... quando mi hanno chiesto, ma faresti il posto a Sergio? Ho già detto subito sì. Quelli che parlano in questo posto, di aggiungere grande bellezza, grande bellezza, di aggiungere l'unità all'antichità, di aggiungere la città a quello che è diversamente in Italia, invece c'è un mondo, poi di questo vorrei provare a parlare con Sergio, no? Com'è la situazione? E' un'altra situazione, perché ci sono incantato alla bellezza di questo luogo. Visto il bronzo, ho visto tutte queste gravi santo, mi suoneremo stasera e incredibilmente ci sono appresti, spazi, fratelli, fattesi, appunto, e... siamo appresti nella storia. E' un'altra situazione, con il museo, con i miei per altri di te, Paolo Ciancini, questo grande cartellone che ha voluto riaprire e valorizzare ultimamente questi spazi bellissimi, abbiamo riuscito di artisti, o tanti, comunque quelli che, anche con la loro storia musicale, con la loro attualità musicale, umore, con la loro musica d'arte, un certo punto. Abbiamo il piacere di nominare i miei ambassionori del nostro museo del mondo, insegnare la sanitaria e il mio padre per intervento per insegnare il nostro museo del nostro museo. E' una famiglia uscrogliato di studiare la storia realizzata da un paese. Grazie a tutti. Siamo una professoressa di un liceo classico che qua dentro al museo archeologico ci sta proprio bene, che è la mia consulente personale, la mia più cara amica quando io mi metto a fare gli spettacoli di cultura classica, tragedia, allora coinvolgo sempre lei. Io avevo scritto uno spettacolo sull'Apocalisse in seguito ai fatti dell'11 settembre del 2001. In quel contesto lì avevo coinvolto la professoressa per ragionare su alcune traduzioni sul greco del testo dell'Apocalisse. Per presentare il mio spettacolo Apocalisse abbiamo fatto una conferenza io e lei insieme che è venuta così bene, così divertente, che è diventata una costola del mio spettacolo. E quindi è diventato un ulteriore lavoro che ci ha portato ad analizzare il testo di Edipo Re come testo parallelo all'Apocalisse di Giovanni. L'Apocalisse di Giovanni è un testo che parla della fine dei tempi, ma l'Apocalisse non vuol dire fine, vuol dire rivelazione. Il mondo non è mai cambiato, è sempre cambiato il nostro sguardo. La rivelazione è togliere un velo per poter vedere il mondo con occhi nuovi. Quindi noi non siamo mai cambiati nei tempi, cioè non è mai cambiato il mondo, ma siamo cambiati noi, volevo dire. Cambia il nostro sguardo. L'Edipo Re di Sofocle è un testo che precede l'Apocalisse di Giovanni di 500 anni, scritto anche quello in greco, e parla quello di una rivelazione, di un uomo solo. Però che anche lui si trova alla fine dei propri tempi, alla fine della propria città, la città di Tebe. Quindi New York, 11 settembre, fine di un'epoca. Apocalisse, Gerusalemme, città che viene rivelata. Insomma, Tebe di Edipo, città appestata. Che cosa succede a un uomo quando vede la città al momento della propria fine? Apocalisse, apocalipto. Apò, via, calipto, velo, quindi vuol dire togliere il velo. Significa, apocalisse, guardare il mondo con altri occhi. Noi stavamo guardando il mondo e guardavamo una città. L'Apocalisse è scritta in greco e quindi guardavamo una polis. Anche il testo dell'Apocalisse è un testo che parla alla fine di una città. E' una città, la Gerusalemme celeste, che scende giù, che non sta all'alta il cielo, ma scende giù alla fine sulla terra per chi sia disposto a vederla. E' una città, la Gerusalemme celeste, che scende giù alla fine di una città. E' una città, la Gerusalemme celeste, che scende giù alla fine di una città. Vogliamo fare un piccolo spot per Month4Kids, che è un progetto del Museo Nazionale di Napoli. In collaborazione con Meri Donare. Con Meri Donare. E c'è un progetto di crowdfunding, quindi una raccolta fondi per ampliare queste sale dedicate ai progetti per i bambini all'interno del museo. Sì, e c'è proprio qui a fianco a noi una specie di Bancomat, dove è possibile donare qualcosa per questo progetto. In cambio di una donazione avete una bellissima spilletta, che ce l'abbiamo anche noi qui vicino al Beige. Oppure potete andare sulla piattaforma Meri Donare, dove potete donare con il solito pagamento, quindi con Paypal, oppure con bonifico bancario. Oppure potete anche fare un IBAN direttamente e fare la donazione. C'è il concerto di Sergio Cammariere alle 21.30 nel Salone della Meridiana, che sarà accompagnato da batteria, basso, percussioni e sax. Sì, ricordiamo che per acquistare i biglietti degli eventi della mattina e del pomeriggio basta recarsi in biglietteria, che è compreso anche la visita al museo, mentre per gli eventi serali si può prenotare online sul sito del Museo Archeologico di Napoli, quindi www.museoarcheologiconapoli.it e sul sito di Coppoculture, www.coppoculture.it.